Alle 21.35 una prima telefonata delle Brigate Rosse all'Agenzia ANSA di Milano. Qui Brigate Rosse colonna Anna Maria Ludman Cecilia. Rivendichiamo il rapimento del boia della Nato James Dozier avvenuto ieri sera. La signora Dozier, che è ancora come vedete molto probata, ha chiesto ai pittori del marito di trattarlo con umanità. Un uomo ha detto che non ha mai fatto male a nessuno.